Nella giornata di ieri un nuovo incendio ha interessato la collina di Carapollo a Teramo. Intorno alle 15.30 è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri forestali. Le fiamme hanno interessato un'area che vada ai 10-15 ettari di terreno, vicini al luogo del rogo del 1 agosto e all'ex depuratore, una zona in parte boscata e in parte coperta da macchia mediterranea. L'incendio è stato circoscritto in maniera rapida ed è stato controllato. L'intervento tempestivo ha scongiurato il peggio, vista la vicinanza di alcune abitazioni, di un canile e della strada provinciale. Attorno alle 19.00 la situazione è tornata alla normalità dopo circa 20 lanci d'acqua con la ben endotazione dell'elicottero giunto sul posto dal reparto dei vigili del fuoco di Pescara. Due autopompe e due autobotti altrettanti fuoristrada sono stati impegnati dal comando dei vigili del fuoco di Teramo. A coordinare le operazioni è stato inviato un direttore delle operazioni di spegnimento del comando dei vigili del fuoco di Chieti. Nella notte la zona è stata presidiata e sottoposta a vigilanza e sarà monitorata anche nelle prossime ore. L'atto di solidarietà è arrivato dai residenti che hanno contribuito alla realizzazione delle linee tagliafuoco. Partite nel frattempo le indagini per accertare la natura dolosa dell'incendio.